Una vittoria importantissima, quella di sabato sera al Palashark per il Granata, che davanti al sold-out sfoderano una grande prestazione, soprattutto i primi due quarti, che gli ha consentito di gestire la gara con Torino dall'inizio alla fine, conquistando anche un più 18 di margine e calando solo nella parte finale di un match che ha confermato il primo posto in classifica a due punti da Cantù e quattro proprio da Torino. Grande concentrazione difesa per gli uomini di Coach Parente, con un Orton capace di magie, con 44 di valutazione finale e tutti coloro che in gioco corale hanno garantito l'ennesimo successo per la squadra Granata. Questo il commento di Coach Parente alla fine della partita. Abbiamo giocato 20 minuti di altissimo livello per avversario che avevamo di fronte, per approccio, per consistenza, per tutti quelli che sono entrati, forse i migliori 20 minuti dall'inizio campionato. Nonostante qualche giocatore per problemini fisici sotto tono, ma ho visto uno spirito di gruppo. Poi, come ci è capitato a Treviglio, come ci capita un po' troppo spesso, abbiamo smesso di difendere tre minuti e prendiamo tre canestre e fallo contro una squadra che non ti puoi permettere perché hanno talento individuale e diffuso in tutti i ruoli come il nostro. Abbassato, alzato il quintetto, poi l'abbassato diventano pericolosi in tutte le maniere e poi abbiamo ricominciato a giocare, abbiamo dato un'altra spallata e poi abbiamo ristaccato un'altra volta la luce e poi alla fine abbiamo gestito con qualche patema. Però, ripeto, per 20 minuti sono molto contento perché sono stati 20 minuti, secondo me, per avversario, per intensità, per concentrazione, migliori del campionato.